La missione di oggi sarà quella di realizzare un'illustrazione con tutta la cancelleria presente all'interno di questa scatola Vediamo subito cosa c'è dentro Ci sono evidenziatori e tantissime penne Sarà un po' impegnativo riuscire a usarle tutte, ma ci proviamo E visto che tra poco si torna a scuola, andiamo di foglio a quadretti Ho cominciato prima bozzando una sagoma con i quattro colori base e poi passando anche al pack di evidenziatori color pastello Carini! Qui però ci vuole anche un po' di contrasto e precisione E per questo arrivano dei fineliner il cui spessore della punta varia da 0.05 mm a 0.9 mm Se mi conoscete saprete che adoro i fineliner, soprattutto quelli colorati E per fortuna ci sono anche quelli, anche con colori pastello Ah, ci ho messo un sacco per trovare il modo di usarli tutti quanti L'ultimo tocco lo diamo con la penna stilografica punta piatta che permette un bel po' di modulazione della linea Forse è la mia penna preferita di tutta la scatola Ok, ho finito Devo dire che è stata un po' un'impresa usare tutte le penne, però mi sono divertita Sfogo la vostra creatività Sfogo la vostra creatività